Non ho nessun piano in proposito. Io non faccio un lavoro da tecnico al momento e cerco però di diffondere certe idee che riguardano la buona gestione dei conti pubblici per esempio, idee che credo possano essere utili all'Italia. Se l'azione di diffondere idee viene considerata un'azione politica, allora faccio politica. Però non è mia intenzione al momento scendere in campo o candidarmi per qualunque cosa. Al momento questa è la mia idea, quelle cose posso sempre cambiare ma al momento non è sul piano né nessuno mi ha mai contattato in proposito.